Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera, un coatto, una cantante e un muto? Hanno avuto tutti un colpo di fulmine. Sì, ma tra chi? Forse tra questi due? O invece questi? Di questi due che ne dite? Questi forse proprio no. O invece sì. Può essere? No, non può essere. Queste coppie mi sembrano azzardate. No, lo saprete solo a Natale. Colpi di fulmine a Natale, al cinema. Grazie.